Bentornati nel nostro canale. Allora, siamo in una chiesa che in realtà non è abbandonata. È una chiesa gestita dal cumulo di Vicopisano. Noi oggi incredibilmente abbiamo permesso di entrare e siamo in compagnia di un gruppo abbastanza famoso, almeno in Toscana, almeno io li conosco. Siamo in compagnia di questo gruppo abbastanza famoso nell'ambito urbex, su internet che sono i tre obsoleti che sono tutti lì. Presentatevi ragazzi. Presentatevi. Daniel. Io sono Daniel. Aspetta che giro così vedo bene lo riprendo. Vai. Io sono Davide. Davide. Io sono Daria B di postiabbandonati.it. Perfetto, benissimo. Buongiorno a tutti. Bentornati nel nostro canale. E non è niente. 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 E non è niente.